Oggi ci troviamo in Borgo Incrociati, un quartiere ricco di storia e di fascino a due passi dalla stazione di Brigno e dalla metropolitana. Siamo nel cuore di Genova fondamentalmente e qua così abbiamo trovato un appartamento all'ultimo piano con una caratteristica molto particolare, l'ascensore che porta direttamente in casa. Andiamolo a vedere assieme e per ulteriori informazioni incontateci ai numeri in sovraimpressione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.